Per te, Napoletano, la partita contro il Napoli ha un significato particolare? Sì, ha un significato particolare perché provengo da una città bellissima, da una città dove sta veramente sognando. Ha detto il Presidente Pulvirenti, si è alzata questa sticella, si parla definitivamente di Europa e anche il gruppo ha dimostrato di crederci, ci credi anche tu? Ma io oltre a crederci penso che abbiamo anche una squadra ben competitiva in questo momento qui, anche come sappiamo tutti abbiamo anche dei giocatori importanti che in questo momento qui hanno giocato poco e sicuramente per questo finale possono essere utili alla causa. Quindi ecco perché sono fiducioso e anche perché vedo i miei compagni tutti i giorni, quindi sappiamo benissimo che obiettivo ci abbiamo. Uno dei giocatori importanti, come dici tu, che ha giocato poco quest'anno, sei stato proprio tu. Qualche problemino, l'esplosione di Marchese, come inquadri questa tua stagione? Sì, sono situazioni calcistiche che possono succedere, ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori quasi per due mesi, quindi la squadra in quel momento lì andava benissimo. Giovanni ha fatto benissimo, ha fatto anche un gol bellissimo, nonostante il gol però ha avuto una continuità per quanto vanno le prestazioni e penso che anche la forza del gruppo, di una squadra, soprattutto come la individua del Catania, la società del Catania, il bello è anche questo. Senti, in queste settimane si è parlato molto anche sull'aspetto societario, dell'eventuale divorzio fra Pulvirenti e Lomonaco. Tu ci credi che possa succedere? I divorzi ormai sono la quotidianità del giorno, anche fra marito e moglie, fra compagni e compagni succede, io non riesco assolutamente a vedere il Catania senza queste due persone, sotto il mio punto di vista, importantissime per questa società.